Ciao a tutti e ben ritrovati. Giro questo video perché ieri mi è arrivata il numero zero di questa nuova rivista Amiga che avevo già ordinato qualche mese fa e visto che non credo che ce l'abbiano ancora in molti mi piaceva comunque fare in modo che gli iscritti al canale potessero darci un'occhiata in anteprima e valutare al limite se di loro gradimento l'acquisto. E quindi a questo punto è la seconda rivista sul mercato cartacea relativa alla Amiga in quanto i computer Amiga hanno già da tempo quest'altra rivista prodotta in Germania in versione tedesca e in versione inglese che si chiama Amiga Future che è una rivista molto professionale, molto ben impaginata e consolidata con articoli da giornalisti di tutto il mondo insomma quindi piuttosto interessante che ha in abbinamento anche un cd e che ogni tot di tempo produce un dvd con gli arretrati quindi se uno vuole partire da un determinato numero può comunque andare ad avere il pdf di tutti i numeri precedenti questa invece nuova rivista è prodotta nell'altro paese oltre a Germania insomma particolarmente amighista ovvero la Polonia ed è prodotta dai ragazzi del sito amiganet.pl quindi un sito polacco che già da alcuni anni produce dei libri su sistema operativo su applicativi Amiga eccetera in lingua polacca ma ultimamente si stanno dedicando anche alla traduzione o alla pubblicazione di libri in lingua inglese quindi da quel momento in poi ho cominciato comunque a interessarmi anche a questo publisher diciamo subito che il formato pur essendo leggermente superiore a quello di Amiga Future è comunque un pochino meno professionale e diciamo che la rivista ha comunque un aspetto, un filino più amatoriale rispetto ad Amiga Future che invece è veramente una rivista professionale a tutti gli effetti e diciamo che Amiga Future assomiglia un po' a quella che era una volta Amiga Format e quindi è impernata principalmente sulle news, sulle novità e anche sulle recensioni di videogiochi e altre cose questa rivista invece assomiglia un po' a quella che poteva essere la nostra enigma Amiga Life nel post negli ultimi anni delle riviste Amiga in Italia quindi purtroppo non è sicuramente all'altezza neanche questa di Amiga Magazine della mitica Amiga Magazine della Jackson però innanzitutto esclude totalmente l'argomento videogiochi almeno per il numero zero cosa che non mi dispiace sinceramente ed è impernata molto in workshop che però non sono tanto dedicate alla programmazione ma all'utilizzo diciamo degli applicativi Amiga gli articoli sono, vabbè, oltre all'editoriale che vediamo qui c'è un articolo di Christoph Radikowski che è il tipo che conduce anche l'amicast quindi chi lo conosce sa che è un appassionato di Amiga Operating System 4.1 che però in questo articolo qui spiega come espandere un Amiga 2000 e portarlo a dei livelli veramente elevati poi c'è un articolo sempre di Christoph sulla Vampire 2 questo sembra un articolo un po' vecchio perché parla di aggiornamento del firmware e altre cose poi non ho capito bene esattamente i tipi di test che ha fatto perché dai test che ci sono qui praticamente la Vampire sembra un bradico e posso assicurare che adesso il giudizio di Christoph probabilmente non è, diciamo, non è il mio un altro articolo sempre di Christoph che è un architetto CAD che spiega, che fa un workshop di MaxonCAD questo è un articolo che, boh, mi lascio un po' perplesso perché MaxonCAD, che sappia io, è uscito soltanto in tedesco quindi non è proprio un articolo di mio gradimento questo invece sulle funzioni di TurboCalc mi è sembrato piuttosto fatto bene abbastanza interessante anche perché poi io TurboCalc ce l'ho quindi è una specie di Excel per Amiga qui c'è un altro articolo su l'Amiga come server multimediale abbastanza, potrebbe essere interessante è un articolo, diciamo, tratta un programma di Amiga Operating System 4.1 e permette di collegare, diciamo, dei dispositivi multimediali tipo televisori, mi sembra di capire oppure telefoni cellulari e utilizzare l'Amiga come server multimediale interessante Tecno Sound Turbo invece è una recensione di un vecchio programma che è una specie di Audio Master carino, interessante mi piacciono comunque queste retro recensioni due pagine sul disco di emergenza del WorldBank 3.9 probabilmente preso dai libri su sistemi operativi di Adam Zalepa che è il capo, diciamo, di questo AmigaNet.Poland un articolo su Directory Opus 5 non è sorprendente visto che loro distribuiscono anche Directory Opus questo è un articolo che è uno dei pochi articoli che ha un parallelo anche su Amiga Future questo è praticamente ci sono mini recensioni di alcuni programmini scaricabili da Aminet diciamo, diciamo, una una colonna, diciamo, su Amiga Future che parla sempre anche di questo questo è un articolo che parla dei devices nell'Amiga DOS questo potrebbe essere interessante non l'ho ancora letto come creare un server FTP ok le nuove features del Workbench 3.5 anche questo dovrebbe essere preso probabilmente di pacca dai vari manuali pubblicati da questo editore e un altro articolo sull'Amiga Operating System 3.9 Changing the look of the Workbench questo articolo doveva essere diciamo, dedicato all'emulazione però in realtà descrive come configurare Visual Prefs per cambiare l'aspetto del Workbench quindi questo in realtà è adatto anche agli Amiga classici anzi principalmente agli Amiga classici un articolo su PageStream tipo Workshop dove spiega come fare l'incolanamenti eccetera non ho PageStream però non mi stupisco che l'abbiano fatto visto che questa rivista è comunque impaginata su PageStream questo è un articolo su un hardware vecchio più o meno del 97 Casablanca un derivato da Amiga qualcuno di voi forse si ricorderà il Draco di Macro System una serie di... diciamo un elenco e una descrizione di alcuni programmi per editare font un articolo su Hollywood questo lo salterò per parpare non mi interessa assolutamente Hollywood un articolo sull'audio video sul supporto di video per Amiga Operating System 4.1 anche qui c'è quasi sempre qualche cosa del genere anche su Amiga Future questo invece è l'articolo nonostante non mi interessa assolutamente l'Amiga One è un articolo sulla scena demo dell'Amiga One l'ho reputato uno dei più belli diciamo di questa rivista anche perché mi ha fatto uno scoprire un mondo che non conoscevo comunque reputavo inesistente questo è un articolo su My System for Work di Adam Zalepa che è su Morphos non l'ho letto poi c'è un articolo su EUAE quindi un articolo sull'emolazione Tips and Tricks Digital World Worth questo è una workshop su WorldWorth interessante perché non l'ho letto ma è una paginetta comunque però ho WorldWorth quindi ci darò un'occhiata è una recensione di Amiki Tix adesso con l'accensione non è molto è una cosa molto sembra quasi pubblicitaria comunque diciamo che ne parla i sistemi ispirati all'Amiga e basta direi questo è l'ultimo articolo non c'è praticamente pubblicità io sostengo sempre queste iniziative diciamo legate all'Amiga anche perché sono un amiglista molto convinto ma direi che in generale è abbastanza sorprendente avere nel 2017 due riviste Amiga in lingua inglese pubblicate in formato cartaceo e quindi se avete voglia se vi interessano gli argomenti direi che è proprio il caso di supportare questi progetti editoriali perché valgono anche il prezzo che costano più o meno adesso il problema più che altro è la spedizione costano circa una decina di euro l'una queste riviste qui Amiga Future esce ogni due mesi questo è un numero zero non so esattamente quando e se uscirà un numero successivo ma dovrebbe essere come minimo un bimestrale se non addirittura un periodico a cadenza ancora più dilatata ciao a tutti e spero che questa panoramica vi sia piaciuta ciao e alla prossima